Il trasporto dei dati in JavaScript Ciao, io sono Michele e in questo video ti spiego come in JavaScript trasportiamo dati da un server a una pagina web Il trucco si chiama JSON, che sta per JavaScript Object Notation Scopriamo insieme come si usa e come funziona Facciamo una delle mie cose preferite, scarabichiamo un po' una navagna Allora, per che cosa sta JSON? Abbiamo detto che sta per JavaScript JavaScript, ok Insieme Object Notation Significa quindi notazione degli oggetti JavaScript Quindi come viene rappresentato un oggetto JavaScript quando lo vogliamo trasportare da una parte all'altra È un formato leggero, il che significa che per trasportare, rappresentare un oggetto servono pochi kilobyte di informazione E è abbastanza facile da interpretare dal punto di vista dell'occhio umano Si riesce a capire facilmente il contenuto, non è un binario puro che è impossibile da leggere Perché è proprio in usa, una rappresentazione testuale Essendo JavaScript uno, se non il linguaggio di programmazione attualmente più utilizzato al mondo Leggere e scrivere oggetti JSON è veramente molto semplice in tutti gli altri linguaggi Che mettono a disposizione tantissime librerie per poter leggere e scrivere oggetti in formato JSON JavaScript JSON ha delle regole, perfetto Ha delle regole, ok, che le informazioni stanno in copie chiave Valore, sempre, vanno via accoppiate Le informazioni sono separate da virgola Se gli oggetti sono delimitati da parentesi graffe Oggetti E le parentesi quadrate servono per tenere gli array Ok, andiamo qui sotto, apriamo un file JSON Facciamo quindi un salvataggio E lo chiamo esempio.json Di nuovo qui avere un strumento di sviluppo, un editor di testo evoluto Mi permette di avere delle agevolazioni sulla sintassi Ok, come lo inizio? Inizio sempre con una parentesi graffa E quindi per esempio se devo rappresentare un oggetto Che rappresenta una persona che ha un nome Faccio così, nome Michele Ecco, questo è un JSON che mi rappresenta un oggetto Che ha una proprietà che si chiama nome E il cui valore è Michele Potremmo aggiungere un'altra Ok, il cognome In questo caso Ok, frcin Benissimo, possiamo inventarci tutte le proprietà che vogliamo Eccetera, eccetera All'interno di un JSON possiamo anche mettere un array Ok, per esempio Se volessimo fare quali sono gli hobby E avere una proprietà che elenca gli hobby di Michele La programmazione Qua mi manca una virgola E fa tutto rosso Ok Programmazione Youtube E le moto, per esempio Ok In questa maniera Ho Rappresentato un array all'interno del mio oggetto JavaScript Come si può vedere è molto intuitivo da leggere anche a occhio nudo Riusciamo a farci un'idea dell'oggetto informatico che andiamo a rappresentare Ok, questa qui è una rappresentazione testuale di un oggetto Andiamo a vedere come leggere un JSON, per esempio Per caricarlo effettivamente in una variabile Da poter manipolare con il JavaScript Per fare tutto ciò lavoro nella console di sviluppo di un browser Eccoci qua, console aperta con il mio F12 Ingrandisco Mi prendo per esempio Questo esempio Ah, mi prendo me stesso Ok Allora, per portarlo di là me lo porto dritto Così Ok, questo è Ok, proprio Mi porto di qua Incollo E faccio left Persona text Apicetto Apicetto Benissimo Ora Quindi dentro persona text Ho questa cosa qua La voglio trasformare in un oggetto che posso utilizzare Proprio con tutte le sue proprietà, eccetera Quindi mi faccio let persona Oggetto Per esempio JSON Punto parse Che cosa devo fargli elaborare? Persona text Adesso persona Oggetto O dentro Ho le proprietà che posso utilizzare come voglio In qualunque Come se fosse proprio È effettivamente Un oggetto javascript vero e proprio Facciamo un esempio Nella nostra pagina HTML Allora, vado di qua Per esempio Vado qua E mi metto Il pulsante Che invece Facciamo leggi JSON Questo è Display Person Facciamo vedere Una persona I dati di una persona Questo me lo copio di qua Questo lo tolgo perché Mi potrebbe dare fastidio Non lo voglio Non mi serve E va bene Quindi Che cosa ci metto? Qui Vado a leggere Faccio questa cosa Let persona Text Uguale Mi metto Quello che avevo qui Lo porto di qua E mi Per esempio Metto Nome Spazio Più Persona Qui mi manca il Let Persona Uguale JSON.parse Persona Text Questo punto Persona Punto Nome Nome Più Cognome Per più Persona Punt Cognome Chiudo Così Vediamo se abbiamo fatto tutto bene Apro questa pagina nel browser Eccola qui Nome Michele Cognome Fergin Perfetto Ha funzionato Perfetto Siamo arrivati in fondo Quindi In questo video Hai visto che cos'è JSON Cosa serve E come si utilizza E i suoi modi Più semplici Se in questo video Hai imparato qualcosa di utile O ti è piaciuto Metti un mi piace Iscriviti al canale Così sarai aggiornato Quando arrivano nuovi video Ciao Ciao